...di questo, perché non tirare di conto la macchia nemmeno per morire. Come sa la tua, da Giustini lo dresta nuova a 180 euro. Io ho un'altra, che lo ha già fatto, di 5 cento. Poi se la donna, con i conti vuoti, io ho quella che ti avendo, perché se le cammino non ho tutta, perché non lo stiamo a lì, perché se la mia andava, se la mia andava, se la mia andava, se la mia andava da lì. Via! Spaccato il cambio! Spaccato il cambio! Spaccato il cambio! Eh? Spaccato il cambio! Eh? Spaccato il cambio! Spaccato il cambio! Non ci credo! Allora! Non ci credo! Sì! Non ci credo! Porta! E per cosa, guarda, tu li ho che te l'ha presa attenzione, o questa? No, ma sei un po' di qua, sei un po' di qua. Ma sai che il motore di cambio è il motore dell'olio? Avviso? E' tutto lo stesso olio, avviso. Ma no, 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 ma no. Scusa, c'hai lì, un pezzo di legno dentro, anche. No, l'attivatore. Ho levatela azzurra, eh? No. Cazzo, l'ugno, brucia, brucia. Guarda che ora è il motore dell'olio motore. Ascoltami, no, questo l'avevo smontato, ma di vita, questi quanti colori, e ti cazzo. Ascoltami, millino, se ora non si gira indietro, si gira indietro, e si gira indietro. Allora, mettete accanto, c'è un carino, lo carino. madonna della madonna lo porto maiana ma 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 Vai, vai tutto, vai E' una vaca, allora oggi No, oggi è uguale Ah, vieni con lui Ai, 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 ai Non porti a casa tua, non porti a casa Ficca pronto Volta Perti 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 Perti